No raga, io vorrei fare un altro discorso, stavolta riguarda i miei compagni di classe Ma no, non è un problema, comunque grazie, grazie mille, ora vorrei dirvi grazie 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 mille raga Vorrei dirvi delle cose Andrea, allontanati dal microfono Ma raga c'è Lucia? Raga vorrei fare un discorso, però spero di poterlo fare Questo è il giorno più bello della mia vita, lo sto documentando praticamente tutto Ciao Omar Omar No, non ci credo Grazie Grazie Ma stai zitto Grazie Omar Lucia 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 Dove è Lucia? Lucia 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 Laura He His Ele Grazie mille, meno male che sei presente Grazie, grazie raga Ricordatevi che siete i miei compagni migliori del mondo Ciao raga Ciao 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 Comunque raga Se volete Rimaniamo ancora qui Hai suonato Carol Cioè riproduce ancora e Alice prova a cantare No, è un amore condo Canta Canta E quindi Dimmi Andrea E Non senti Carola è una condizione pessima Riproduci per favore di nuovo, scusa carola se te lo chiedo Dai amore dai canta Dai 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 ti prego No sen No ma guarda senza Anche senza magari la base Dai canta amore dai ti prego Ecco raga Ecco raga Sì Un po' Canta dai Sì sì, grazie Sì sì, grazie Senza base però eh Ali Ok Ok, 3, 2, 1 Vai Grazie Grazie amore No ma chi? Cosa? 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 Un attimo No Aspetta Amore Ok Ok Va bene Baciami Che Un bacio a stampo Solo a stampo Sì lo so Ma grazie Bye 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 Bye